Dal ritiro di Coverciano, dove la spedizione azzurra è rientrata nella notte immediatamente successiva alla disfatta di Wembley contro l'Argentina, è stato il giorno della lista dei giocatori che proseguiranno il ritiro in vista degli impegni di Nations League. Mancini ha scelto 23 giocatori che saranno a sua disposizione per il poker di gara in programma. Oltre all'annunciato addio alla maglia azzurra di Chiellini, tornano a casa anche Insigne, Giorginio, Verratti, Emerson Palmieri e Bernardeschi. Dei toscani in gruppi rimangono Di Lorenzo e Cragno. Si parte sabato a Bologna contro la Germania, ore 20.45 il fischio d'inizio, poi a Cesena martedì sarà la volta dell'Ungheria. Sabato 11 giugno si vola di nuovo in Inghilterra per sfidare i vice campioni d'Europa. Infine nuovamente i tedeschi martedì 14 giugno per completare il ciclo. La parola d'ordine è ricostruzione sulle macerie, senza però la vecchia guardia.